Buongiorno a tutti, do il benvenuto al dottor Riccardo Zuccarino, fisiatra, consulente del Centro di Ascolto e Consulenza sulla SLA di Aisla e parto subito con la prima domanda, dottor Zuccarino, che cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? Buongiorno a tutti, allora questa è una domanda che ha una sola e semplice risposta, perché come fisiatra il mio compito è quello di in qualche modo far vedere ai pazienti che nonostante la disabilità avanzi ci sono tutte le possibilità comunque per continuare a vivere una vita degna e diciamo questa patologia che è una patologia che coinvolge non solo il paziente ma l'intero nucleo familiare ha trovato in me diciamo una risposta proprio nel mostrare e aiutare a queste famiglie e a questi pazienti che ci sono delle alternative nonostante ci sia una diagnosi che alcune volte veramente sconvolgente e ci arriva come una secchiata di ghiaccio ma nonostante questo possiamo continuare a vivere la nostra vita in maniera dignitosa. Ecco e quindi riagganciandoci a questo quali sono state poi le motivazioni che ti hanno spinto in qualche modo a collaborare con il centro di ascolto e consulenza di Aisla? Questo è venuto naturale perché come fisiatra e lavorando all'interno del Nemo la cosa bella proprio della presa in carico che facciamo è proprio di farla insieme perché da soli non riusciamo mai a dare una risposta soddisfacente ma tutti insieme riusciamo in qualche modo a dare un supporto. L'incontro con l'associazione è stato così è stato un incontro innanzitutto di anime di persone con le quali mi sono trovato in sintonia e mi sono trovato con un gruppo di amici che avevano la voglia come me di aiutare queste persone supportarle nel loro percorso in tutti i percorsi che queste persone volevano scegliere e vogliono scegliere e quindi è stato proprio per me naturale approdare in questa grande famiglia e cercare insieme di dare un pezzettino di contributo per sostenere questi pazienti e le loro famiglie. E di questo naturalmente ti ringraziamo. Ecco un'ultima domanda Riccardo, puoi raccontarci un caso, una situazione a tuo avviso significativa per la quale pensi sia stato possibile misurare proprio l'esito, il risultato delle azioni del centro di ascolto? Allora, con questa domanda mi viene in mente una situazione nella quale ero stato coinvolto, una paziente che non aveva possibilità di poter riuscire di casa e che si trovava in una situazione di difficoltà proprio perché si trovava in un piano elevato con delle barriere architettoniche e nonostante questo siamo riusciti con il centro d'ascolto e mettendoci in rete con i servizi territoriali a dare un supporto a questo paziente che è riuscito finalmente a ritrovare una libertà che lui pensava di aver perso e quindi diciamo come diceva Gaber, libertà e partecipazione e quindi questo penso sia stato uno bellissimo esempio di essere riusciti a dare proprio una risposta concreta a quello che poi noi definiamo qualità di vita. Ecco, beh, questo secondo me è un bel esempio di tutto quello che poi spesso diciamo ai malati e alle loro famiglie, quindi penso che sia un bel esempio di quello che anche il centro d'ascolto vuol fare, quindi sono stato molto contento di questa esperienza. Sì, infatti credo che questa citazione di Gaber che libertà non è star sopra un albero ma libertà e partecipazione sia molto calzante rispetto a questo episodio e a questa situazione che ci ha raccontato. Allora io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti e ti ringraziamo per il lavoro che fai nella tua quotidianità ma anche con Aisla e con il centro d'ascolto. Grazie a voi. Grazie al dottor Zuccarina. Grazie. Grazie a voi.